Da lunedì dovrebbero fioccare le ufficializzazioni. In casa Paganese tutto è pronto per regalare ai tifosi azzurro stellati i primi colpi di mercato in vista della nuova stagione. Nella lista dei giocatori che dovrebbero arrivare agli ordini di Mr. Quoghi c'è Samuele Pizza, centrocampista, ma non mancano altri nomi importanti. Il DG Deboli, come diciamo ormai da giorni, spera di ricevere il sì del brasiliano Gustavo. Non semplice questo affare perché l'attaccante sudamericano vorrebbe aprire le porte a un'esperienza all'estero oppure cercare un'opportunità in Serie B. Il suo ingaggio poi tra l'altro è molto elevato. Un altro ex Granata, Sini Scalchi, difensore centrale, nei pensieri di Deboli. Qui invece potrebbero esserci spiragli per un immediato accordo. Intanto il fisioterapista Davide Bisogno è stato confermato nello staff, così come il preparatore dei portieri Enrico Limone, mentre Mr. Quoghi si avvarrà di un secondo e di un preparatore atletico, ruoli rispettivamente ricoperti da Giuseppe Di Meglio e Sergio Giovani. La Salernitana invece ha deciso di spostarsi al nord per il ritiro precampionato che inizierà dal 19 luglio e si concluderà il 2 agosto. I Granata infatti, abbandonata la sede di Pizzo Ferrato per problemi al manto erboso, saranno impegnati a San Vito di Cadore, alloggiando all'Hotel Boite. Dovrebbero essere confermate le amichevoli del 4 agosto col Parma e del Setto con Lanciano, società con le quali la Salernitana sta avviando una serie di trattative. Dai Ducali potrebbero arrivare non solo giovani importanti, ma anche gente esperta che il Parma tiene sotto contratto in giro per il mondo. Con il Lanciano si è intavolata una trattativa invece per la cessione di Mendicino. Intanto per la prima linea il nome Caldo resta quello di Alessandro Marotta. In casa a Nocerina invece il futuro è ancora pieno di dubbi. Non è il caso, per quanto ci riguarda almeno, di creare falsi illusioni per una tifoseria che ha già subito tante negatività negli ultimi mesi. Si è parlato in concreto della possibilità di un nuovo interessamento del patrono della Versa Spezzaferri, ma ufficialmente non ci sono notizie in un senso o in un altro. Insomma, vige il più ampio silenzio sulle situazioni dirigenziali future. Non sarà facile comunque ripartire per chiunque abbia interesse a farlo. Di certo bisogna fare in fretta se si ha intenzione di ricominciare con il calcio o dalla Serie D oppure dall'eccellenza.